bene amici qualcuno mi ha chiesto ma verdure non ne fai mai adesso facciamo le verdure prima cosa per fare delle verdure al barbecue è procurarsi delle verdure da fare al barbecue seconda cosa tagliarle a fettine oppure metterle anche intere poco importa tanto fa tutto lui terza cosa mettere un po di fumo per fare un po di affumicato quarta cosa veniamo a vedere il nostro mix di verdure grigliate affumicate al faggio noi abbiamo dei cipollotti zucchina i peperoni le melanzane cotti peperoni sono ormai belli cotti e utilizziamo un trucchetto per togliere la pelle con più facilità e mettiamo in un sacchetto di plastica è chiuso dove loro proseguiranno la loro cottura e poi riusciremo a togliere tranquillamente la pelle ed ecco il nostro piatto pronto un po di olio un po di sale origano e se credite anche un poco di aceto e siamo pronti ad assaggiare buonissimo ciao amici vegetariani